Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale, siamo qui sul secondo villaggio Finalmente ragazzi, siamo dei TH6 Ovviamente siamo dei TH6 ultra scarsi perché siamo appena passati La prima cosa da fare, secondo me, quando si passa di municipio, specie se si è di livelli così bassi E cominciare ovviamente a sbirciare un attimino il negozio Risorse, abbiamo degli estrattori e delle miniere Che andiamo a mettere giù, ah giusto, devo aspettare che finisca il coso Mettiamoli giù subito in tempo lampo 1 e 2 In successione abbiamo delle difese, del muro, un mortaglio, uno stregone, le trappole che ne mettiamo 1 e 2 Poi abbiamo una bomba gigante Abbiamo già il volano che ovviamente non l'avevamo noi prima che giochiamo da un po' più di tempo La prima cosa da fare è mettere giù Dopo aver messo giù il muro, tutto quello che riusciamo Mettimolo in via genio Ecco Ci vogliamo mica un... Basta, quanto muro mi stai dando? Basta Ok Il muro abbiamo messo giù tutto Io direi di mettere giù Una torre dello stregone Perché fa davvero la differenza la torre dello stregone Fa la differenza perché Perché attacca delle truppe in massa Quindi gli arcieri vengono praticamente shottati Ci manca il mortaio Che non mettiamo giù adesso Tanto costa pochissimo a questo livello E in successione non mettiamo giù più nient'altro Perché andiamo a fare un attacco in live Cercando di prendere un po' di risorse Classica strategia iniziale Ovvero giganti che fanno da muro Arcieri dietro che fanno i danni Generalmente funziona E probabilmente funzionerà anche adesso Ovviamente non possiamo puntare troppo in alto Perché non siamo... Non abbiamo delle truppe uber forti Lui era anche abbastanza buono Era tutto esterno Però fa lo stesso Dobbiamo cercare uno che ci dia un bel po' di risorse Per fare anche il muro Perché io ci tengo a maxare tutto ogni volta E il muro è quello che tanti lasciano indietro Per esempio io nel mio primo villaggio Sto facendo tutto il muro all'otto Ed è una fatica esagerata Allora su un TH9 è una fatica Però va fatto Perché altrimenti dopo con le guipe Ci sfondano proprio l'ano Proprio in modo molto violento Non si trova un cazzo Perché come ho detto nello scorso video Che è uscito alle 13 Se non l'avete visto è andato a vedere E dopo l'aggiornamento Non ci trova mai un cazzo Mai Sapete cosa faccio io? Mi rubo queste tre miniere qua E me ne vado Tanto alla fine sono tutte qua le risorse Quelle grosse Spero Credo No saranno stati un 40.000 qua Poca roba Pensavo di più Vabbè dai c'erano Dov'è tutto l'oro principalmente? Non penso sia nel Nelle cose No sono 50.000 scarsi Che beh Comunque per quello che dobbiamo far noi 50.000 È anche più che discreto Visto che ora andiamo a farci un po' di mura Perché ci servono le mura Altrimenti dopo mi dimentico di farle Poi tanti saluti Un'altra cosa da fare assolutamente È il laboratorio Infatti appena avrò le risorse giuste Immediatamente il laboratorio Perché poi con il laboratorio andiamo a farci le truppe E la differenza poi durante gli attacchi si nota E come se si nota Quindi non c'è alcun problema Tiriamo giù anche qui queste 25 gemme Che possono essere comode Aspettiamo un attimino che si facciano due truppe E andiamo a fare un attacco Nel frattempo Dovremmo andare anche a cambiare la disposizione Nel clan siamo praticamente nessuno Perché l'ho abbandonato Quindi giustamente Diceva ragazzi Il clan l'ho abbandonato Perché non sono più intanto in questo villaggio Quindi purtroppo sono usciti tutti Ma giustamente anche aggiungerei E devo fare la fabbrica degli incantesimi E il laboratorio sarebbero le primissime cose da fare Solo che costano un bel po' E quindi non ho tutte queste risorse attualmente Questo municipio qui è il primo Un attimino impegnativo Perché dal sei in poi Comincia ad essere un pochettino più complicato Anche lo stare dietro a fare le risorse E a tutte queste cose qua Anche perché Cominciano a costare un po' di più le cose Comincia già a partire 3-400 mila per ogni edificio Ed è un problemino comunque Questi livelli Io direi di andare a fare un attacco Anche se abbiamo solo 33 Arca puttana Dove li hai? Secondo me li ha qua questo Perché comunque sono alti Questi estrattori Cioè queste cose qua Facciamo una roba Facciamo una roba Perché mi sa che qua Mi sa che qua Ce ne ha un po' lui Tutto qua mi sa Vabbè intanto noi li lanciamo Poi vediamo cosa succede Intanto cerchiamo di rubare Il più possibile Sperando che sia tutto Dove dico io A me sinceramente Ora come ora Interessa solo l'oro Quindi comunque Che gli abbiamo rubato Già un 100 mila di oro Che non è affatto male No va benissimo 150 mila Le mini re le abbiamo spaccate tutte Quindi non mi lamento assolutamente Ci siamo rifatti 110 mila di oro Che ci fanno assolutamente comode Andiamo subito A sistemare le mura Perché sono quelle che mi premono Un po' di più All'inizio Quando faccio il municipio Tutto quello che posso Lo spendiamo in mura Eh 5 mila al pezzo Già qui comincia a costicchiare Un attimino Però dobbiamo riuscire A farlo tutto fino in fondo E con un attacco Ci siamo fatti tutte le mura Al 3 Quindi comunque Qualcosina si trova A questi livelli Ovviamente dopo portare le mura Mi pare sia a 75 mila Esatto 75 mila al pezzo Ma è una cosa fattibilissima Anche perché l'abbiamo fatta Praticamente tutti Senza Senza troppi impegni Ragazzi Comunque ovviamente Le prime cose da fare Ve le ho detto Sono torri dello stregone Laboratorio La fabbrica degli incantesimi Se avete il quarto muratore Magari mettete giù anche il mortaio E cominciate a potenziare Prima le nuove difese Portandole a livello Con le vostre vecchie Successivamente Portate tutto al massimo Ragazzi Per questo breve video è tutto Vi lascio Con i miei social in descrizione Instagram Pagina Facebook E profilo Facebook Noi ci vediamo domani al 13 Con un nuovissimo video Da piazza è tutto Un saluto e ciao Ciao ragazzi Al prossimo video